Buonasera Buonasera Avrei una prontazione per la criosauna Bene, a nome? Martina Controllo subito 18? Sì Perfetto, accomodiamoci pure Grazie Martina ti consegno la tavola Grazie Grazie Ti cambi pure nello spogliatoio Ci vediamo dopo per la Crio Ricorda di togliere gli oggetti metallici E di mettere gli zoccoli di legno Trovi tutte le misure nel camerino Grazie Prego Prego Prima testa Marti Come va? Bene E la tua seconda volta oggi? Seconda volta Benissimo Ti ricordo di stare in movimento Per una rotazione pian piano Ruota molto piano Ora Puerta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.